Un incendio di sterpaglie di natura accidentale in via Santo Spirito ha causato danni anche ad alcuni veicoli parcheggiati all'interno di una struttura della zona all'altezza del civico 26. L'allarme è scattata domenica pomeriggio e sul posto sono arrivati prontamente i vigili del fuoco, i quali hanno subito spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Le fiamme avevano lambito i paraurti e le estremità di due auto e un camper parcheggiati all'interno della struttura che risulta in disuso da tempo, mentre un altro veicolo non è stato raggiunto dal fuoco. Sul posto sono arrivati anche i poliziotti delle volanti per effettuare alcuni rilievi, ma sia i vigili del fuoco che gli investigatori hanno poi constatato la natura accidentale dell'evento. Al momento gli investigatori non hanno neanche potuto rintracciare il proprietario della struttura.